Un altro gol, un altro start del match, e ora la finale. Diciamo sulle emozioni. Non posso descrivere le mie emozioni da parole. È stato un tuffo match. Spingh era buono oggi, ma ora siamo iniziati alla finale e siamo tornati qui sul 11 Julio. E vediamo, vediamo. C'era difficile di giocare? No, erano buono oggi. Sì, erano buoni. Abbiamo stati spettatori all'interno della squadra. In ogni posizione erano buoni. Ma stavamo fino alla fine, perché vogliamo farlo. E abbiamo fatto. Il gruppo, di nuovo, ha fatto una differenza? Sì, anche qui. Quando Loca ha fatto il primo penalti, tutti stavano tranquillamente. Tutti stavano. 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 Grazie. 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 Grazie.